Grazie 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 Ciao 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 Senti Che fai Sono libero Andiamo al cinema alle 4 basta prenderti Grazie Ed è venuto in avanti a te Il premio di tanto lavoro Perché all'epoca non so come adesso Ma c'erano anche la filosofia del lavorare per una domanda E allora eccola E La sensazione di benessere durava due secondi Perché all'improvviso si ha E qua ti saltava il piano dei conti perché ti c'erano? Non c'è la puntata di vostra compagnia, io sono un ragazzo che mi permetta, non mi piacere la saggietà, prendo in giro la tappa. E con le definizioni di matrimonio, vediamo, una pansia, ma non lo so, non come, un coronamento dell'amore, vediamo un altro, vediamo questa simpatica signora che dice a non venire con 6.000! Che cos'è il matrimonio? Che cos'è il matrimonio? Madonna dell'anno c'è il matrimonio! Insomma, va bene, avviamo! E' oltre la mia vita, ho qualcuno da calzare, qualcuno ha calzato mai, e' oltre la mia vita, ho qualcuno. Allora, facciate solo 5 minuti di pausa, un'altra parte della sigaretta, però da 5 minuti state quasi dopo, va bene? Dai, a dopo! Grazie! 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 Angelo! Ha voluto un istimano! Mo! Stimano! e cammina, cammina, cammina il gatto con gli spavali si apprenditò arrivò nel bosco e si apprenditò arrivò a un certo punto il principe azzurra che garoppava, no? garoppava e tenia la bocca aperta e si appena mangiava un mezzo dito le pane con uno crano o un lago, no? allora camminava e ci via tutte le muschie di zinzali e caricavano le cose dice cammina, cammino, cammino, cammino un principe come sei stato il mio? cammina, cammina e so, dicendo, da ci cammina tutti, nel bosco delle pavole, cammino a tutti parla circunvalazione, lei c'ha una mezzo alle poveri cammino, cammino a prendita il buggetto rosso sbocca del strego che cercava le more cerca le quattro di gespuglio cerca le biai io voglio le more però ora è un sito pavolo, no? io voglio le more cerca le quattro di gespuglio cerca le biai io voglio le more e se non mi ha il sito a cercare io, va bene no, io voglio le more voglio le more e a un certo punto sconchia dietro di gespuglio la testa del lupo cattivo con gli occhi tutti inviartati di sangue e cappuccetto cappuccetto una costruzione fa lupo che occhi rossi e grandi che hai o se Black o noi loirlerano se fare la scoge alla macio fase sei 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 una recusa 魔重ina da Grazie. Grazie. Grazie.